Musica Il contatto è il punto 25 e questo lì ha avuto il gioco attualizzato da Matteo De Pana e da Axel per l'erotto con il tallo ostacolo. E perdiamo ancora il 106.25 con una prima posizione execo per Giovanni Consorti e Ferdinando Panelello e Andalus con Elsa. Grazie. 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 Grazie.